Sì, non hai avviato la videocamera? Sì! Non vale! 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 Questo qui! Sì! Due volte! Aspetta eh! Ok! Benvenuti a tutti ragazzi! Benvenuti con un nuovo video! E oggi giocheremo a FIFA! 17! 17! A testa in giù! Ciao! Vai vai! Dio! Aspetta! Aspetta che questo curioso ha! Oddio! Posso meglio quello lì? Eh! Aspetta aspetta! Oddio! No! Via! Fuori gioco! No! Di gioco! Oddio! Oddio! No! Perdicola! Ok! No! No! Di gioco! Ehi! Che ti fai che lo sono ancora rivolto! No! Di gioco! Non sei scarsa! Non è un po' di affare! Eh! Ecco! Non sono rivolto! Ecco! No! Dio! Sì Ma non sono cool No Che gol Golazzo Golazzo Ok Oh no Non lo faccio Non so cosa succede Ma hai visto che caccia come? Pare che come da strabico Come fai Paolini? Oh Oh di là devo andare 1 2 2 2 2 2 3 2 No di là Oh no Questo è storia tipo 10 secondi Guarda che per i nostri iscritti per le views Eh cazzo dai Per i soldi Per i soldi Per i soldi Non sapevo neanche Se l'ho passato Non pensavo Eh sì Ti dicono così Sono scherzi Ma pare A me Pare che siamo Tutti a terra Vai bella o sta o sta Facciamo un titolo Aspetta no 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 Aspetta Oh mio dio Guarda che Iniziamo ti scende tutto Vai riprendi Bene a tutti Adesso tutto Con il contrario No 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 Mister Eh Mister Ti ho bacchato la palla Mister Mi giocare No 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 Con tutte le battute Con tutte le battute che avevo fatto Cazzo Avevo una serie di mezzo Ma aspetta Aspetta Ma andrò Si Uff Uff Vanno arriviamo Quando arriviamo A 5 like Ma facciamo la prossima A 5 like Dai Vai dritto per dritto Porco Che cazzo fai a giocare Tu Sì, vanno per un bel bel Ma avete il nobile ai scenari giocando così? Sì Ti rivolgo di culo C'era io anche invece di andare dall'altra parte andiamo nella mia porta TAUSA Eccolo, due, 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 due Che gran gol che ho fatto No, ma non va il canale Devo solo vedere cosa gli fa E' ignorante Perché quando potevo fare Goal Si può cedere a passo volum Goal Si può cedere a passo volum Basta il mio ritiro No, no, no 10 minuti Sto perdendo la pazienza io, sono in educazione E Giorgio? Anche così finita, promessi Ah, mi sguardo la telecamera Vedi? Ti opposto? No, è troppo difficile, non ci date i soldi per Paolini? Non ci date? No Che cazzo fa? Che cazzo fa? Cazzo fa fa un super goal Super Gaby Goal ciao a tutti e dateci i soldi bella ragazzi la ruta al pubblico di quale si spegne la ruta come si spegne ciao gaby hola quanto è che mi sta intervista mi sta restarmi si sta ristabilendo il sangue in testa intervista dopo dopo partita